a fano giovane muore schiacciato da un macchinario da lavoro addio ad arduino scola custode del dialetto pesarese tavuglia consegnerà le chiavi della città a valentino rossi i weekend gastronomici compiono 40 anni agricoltura e innovazione il progetto olive get una buona serata cari amici e amiche di rossini tv per questa nuova edizione del rossini news telegiornale di mercoledì 5 di aprile che apriamo con una terribile tragedia avvenuta su un luogo di lavoro avvenuta questa mattina a fano dove a perdere la vita è un giovane di 26 anni aveva appena iniziato il proprio turno di lavoro giacomo cesaretti fanese di 26 anni quando per causa in fase di accertamento è morto schiacciato da un macchinario di lavoro la tragedia si è consumata questa mattina poco dopo le 7 nella zona industriale fanese di via papiria all'interno dello stabilimento della polver azienda dedita la verniciatura di articoli metallici per conto terzi un'azienda che conta una trentina di dipendenti giacomo era uno di questi è rimasto fatalmente schiacciato da un carrello elevatore inutile l'immediato allarme dei colleghi vano l'intervento dell'ambulanza del 118 per il giovane fanese non c'era più nulla da fare sul posto anche vigili del fuoco e polizia che stanno ricostruendo la dinamica che ha portato a questa drammatica morte bianca reazione dura dei sindacati marchigiani che oggi all'unisono hanno giudicato inaccettabile che ancora nel 2023 una persona esca al mattino per recarsi al lavoro e non faccia ritorno a casa si invocano misure drastiche sul fronte sicurezza dopo che nel 2022 appena concluso le morti sul lavoro sono aumentate del 21 per cento rispetto all'anno precedente e se ne va uno dei massimi custodi del dialetto pesarese è morto ieri all'età di 81 anni arduino scola lo vogliamo ricordare con questo servizio quando due anni fa aprì le porte di casa sua alle telecamere di rossini tv addio ad uno dei massimi custodi del dialetto pesarese è morto ieri all'età di 81 anni arduino scola autore pesarese di una sconfinata produzione in vernacolo oltre 500 composizioni in mezzo secolo fatto di partecipazioni riconoscimenti apprezzamenti tanto nel pesarese quanto nel riminese fino allo scorso novembre quando nel teatro della piccola ribalta fu presentato ecme versi in vernacolo pesarese scola danni versava in precarie condizioni di salute nella sua casa di pantano in via silvio pellico costretto in sedia a rotelle dopo una vita segnata anche da pesanti lutti familiari due anni fa nel maggio 2021 scola aveva aperto le porte della sua casa alle nostre telecamere di rossini tv mostrando con orgoglio la sua produzione di poesie o meglio di storie di vita in vernacolo pesarese come amava definirle il dialetto pesarese deve rimanere il personaggio va però fa parte della cultura perché è proprio la madre della lingua italiana e io la vedo così perché poi le mie sono storie sono racconti sono la vita che viviamo tutti i giorni non ho inventato niente ho detto quello che era domani 6 aprile alle 15 30 si svolgeranno i funerali nella chiesa di san carlo borromeo e l'assessore al rigore del comune di pesaro andrea nobili ha comunicato che la gestione finanziaria 2022 ha chiuso il bilancio d'esercizio con un avanzo di amministrazione di 68 milioni e 400 mila euro un importo che rilascia risorse superiori a 6 milioni e mezzo di euro di queste 3 milioni e 2 saranno a disposizione degli investimenti e verranno subito utilizzate altrettante sono invece libere e saranno concentrate sulle manutenzioni degli edifici e il rifacimento degli asfalti il 19 maggio il comune di tavuglia consegnerà le chiavi della città a valentino rossi il più illustre dei suoi cittadini una festa per incoronare 25 anni di carriera del campione di motociclismo tavugliese un grande appuntamento annunciato dal sindaco francesca paolucci e realizzato in collaborazione con la regione marche nel primo weekend sgombro da appuntamenti del moto mondiale per i tanti piloti dell'accademy di valentino cambiamo ora argomento festeggiano 40 anni i weekend gastronomici un grande traguardo celebrato oggi da conf commercio marche nord che vi mostriamo in questo servizio e che però approfondiremo ulteriormente in uno speciale che andrà in onda venerdì 7 aprile alle ore 21 46 ristoranti distribuiti in 30 località della provincia di pesaro urbino viaggi gastronomici tra storia arte natura ma soprattutto riscoperta della cucina locale oggi i weekend gastronomici di conf commercio pesaro urbino compiono 40 anni i weekend gastronomici hanno un'edizione primaverile e un'edizione autunnale l'edizione autunnale tradizionalmente quella più seguita dai consumatori con anche un numero maggiore di ristoranti che partecipano quest'anno la quarantesima edizione edizione primaverile sono 46 ristoranti ma il fatto che noi riusciamo dopo 40 anni a confermare e organizzare questa manifestazione che è veramente la più longeva della regione marche dimostra il grande attaccamento il grande interesse da parte dei ristoratori e soprattutto da parte dei consumatori un'iniziativa straordinaria perché ha consentito di sviluppare ripeto la qualità della ristorazione dell'entroterra facendo conoscere nel contempo borghi e i centri normalmente al di fuori delle mete turistiche più importanti insomma la formula dell'obbligo della prenotazione del prezzo chiaro e trasparente per i consumatori se noi prendiamo una guida nella guida c'è non solo il menu c'è il prezzo c'è il costo del vino c'è il tipo di vino che viene servito non sono previsti costi aggiuntivi per i consumatori quindi è una formula che piace molto soprattutto perché è un'iniziativa promozionale ma supportata da una forte campagna pubblicitaria è tutto un movimento marche che si sta muovendo e Amerigo dobbiamo dire ha iniziato prima come conf commercio con questi 40 anni che oggi ricordiamo proprio utilizzando quello che magari è più appetibile che è l'enogastronomia noi abbiamo dei prodotti di eccellenza a livello mondiale veramente che tutti ci riconoscono abbiamo la possibilità con dei piatti di poter essere attrattivi anche chi fa di turismo enogastronomico una bella un bel momento di relax e allora continuiamo su questo percorso per i prossimi 40 anni e sono sicuro che le marche torneranno a essere quella bellissima regione che tutti vogliono scoprire restiamo in ambito alimentare sta per concludersi il vinitali di verona dove le marche stanno facendo bella mostra di sé non solo con circa 50 aziende vitivinicole ma anche con prodotti come la casciotta d'urbino che danno una loro risposta all'attuale dibattito europeo sui cibi sintetici a pochissimi giorni dal provvedimento approvato dal consiglio dei ministri in cui in italia è vietato commercializzare cibo sintetico al vinitali di verona il consorzio della casciotta di urbino dop ha organizzato un incontro intitolato la bellezza nel gusto nello spazio di food brand bache un incontro finalizzato a sottolineare l'importanza del cibo tradizionale come quello degli allevamenti per l'economia la tutela della biodiversità senza mai dimenticarci l'assoluta bontà e genuinità dei prodotti regionali la bellezza è nel gusto perché la bellezza è quella che salverà il mondo le cose belle salvano il mondo nel caso della casciotta d'urbino è una cosa bella che quando noi andiamo a saporarla ci va a fare creare delle emozioni utili ma perché questo perché è un prodotto che viene fatto interamente nelle colline della provincia di pesa d'urbino delle colline comuni del riminese dove vengono allevate le pecore e le mucche tra cui si terrà il latte e mescolato insieme una polmola magica una polmola contadina del 70% di latte urbino al 30% di latte maccino in 10-15 giorni di stagionatura è già pronto per essere assaggiato difenderemo la nostra agricoltura anche da coloro che cercando di spostare l'attenzione sulla sostenibilità vogliono surrettiziamente trasformare la produzione alimentare da produzione agricola in produzione industriale o chimica pensiamo ad esempio ai sostituti delle proteine nel latte che in qualche modo stanno venendo avanti anche con una forte spinta nei consumi c'è un'induzione di nuovi consumi che prevede alla base dei nostri prodotti tradizionali non più i processi produttivi agricoli o allevatoriali a cui noi siamo stati abituati e che difendiamo con orgoglio ma dei processi di sintesi che vengono fatti chimicamente in zone industriali anziché all'aria aperta ecco quella non è sostenibilità noi pensiamo che la casciata di urbino non possa essere sostituita con un prodotto creato artificialmente. Il centro per l'autismo che dal 2017 si punta a realizzare nel quartiere pesarese di Villa San Martino è stato discusso nel consiglio regionale di ieri con tanto di dibattito politico sulle tempistiche per il progetto definitivo. Vediamo. Il centro regionale per l'autismo da realizzare a Pesaro sulla struttura Asur di Via Vattielli ha avuto un'accelerazione nell'ultimo consiglio comunale di Pesaro tenutosi la scorsa settimana ma ha diviso i pareri sulla celerità del progetto nel consiglio regionale di ieri. Attualmente quindi la variante urbanistica è stata definita ci sarà la possibilità di edificare un edificio a fino al massimo di due piani per 1200 metri quadri ora quello che manca però è il progetto definitivo per poter veramente partire con i lavori. Le famiglie sono stanche di aspettare ormai dal 2017 che avevamo previsto 800.000 euro a bilancio sarà un centro che darà veramente sollievo alle tante famiglie che stanno aspettando appunto questo centro che sarà un centro residenziale, un centro diurno ma anche un centro sollievo dove ci saranno fino a 18 posti letto nuovi appunto per dare le risposte alle tante famiglie che stanno aspettando. Biancani nelle consiglio regionale di ieri ha esternato il fastidio per la mancanza di tempi certi Nicola Baiocchi, presidente della commissione sanità, ha invece assicurato che la pratica è stata accelerata rispetto all'immobilismo nella giunta Ceriscioli e che gli atti in corso garantiscono il varo di un progetto tecnico preliminare entro sei mesi. Torna il premio circolo della stampa. Sarà consegnato il 12 aprile alle 17.30 a Palazzo Montagna Antaldi sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. A ricevere il premio 2023 saranno la general manager di eBay Italia Alicia Ciarri, la restauratrice ai musei vaticani Viola Ceppetelli, la stilista Alberta Ferretti e Gianni Tangucci. Reduce da una carriera da direttore artistico in alcuni fra i più importanti teatri italiani. E si è conclusa la tredicesima edizione del Campionato Nazionale delle Lingue, organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo dell'Università di Urbino, sotto la regia della professoressa Enrica Rossi. Il campionato ha coinvolto 392 scuole italiane. A vincere gli assegni di studio sono stati il Bergamasco Francesco Cereda per l'inglese, la milanese Margherita Pavesi per il francese, Miranda Galbusera di Lecco per lo spagnolo e la bresciana Rebecca Faini per il tedesco. E parliamo di rievocazioni storiche in vista di Pasqua. Il borgo di Serravalle di Carda proporrà la Passio in occasione del Venerdì Santo 7 aprile. Uno spettacolo in costume che dal 1979 ad oggi porta l'intera comunità apecchiese a mettere in scena un evento che rievoca fedelmente tutte le fasi della Passione di Gesù Cristo, dall'ultima cena fino alla crocifissione e resurrezione. E vi segnaliamo ora un appuntamento tradizionale di Pasqua dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni. Al Parco Scarpellini di Pesaro l'Associazione Impara e Cresci Giocando Piccole Canaglie propone domani, venerdì e martedì 11 aprile, la divertente Caccia le Uova in collaborazione con AIL e circolo culturale Salice Gualdoni. Agricoltura, ricerca, innovazione, formazione didattica. Tutto questo è il progetto OliveGet che questa mattina ha fatto tappa all'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Agricoltura, scienza, ricerca e formazione didattica. Tutto questo si unisce nel progetto OliveGet, progetto del PSR Marche che punta allo sviluppo della cultura dell'oliva in particolare della Reale DOP di Cartoceto coinvolta in questo progetto che vede l'Istituto Agrario Cecchi in prima linea, istituto agrario nel quale ci troviamo oggi e dove insieme ai tecnici e ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche è stato allestito un olivetto sperimentale per la messa a dimora di specie particolari come la raggiola. Ma ascoltiamo proprio dalla voce degli esperti, dei diretti interessati in questo progetto di cosa si tratta. La sperimentazione prevede la messa a dimora di pianti di tre varietà diverse, una varietà spagnola che è l'arbechina, una varietà autoctona marchigiana che è il piantone di Mogliano e una varietà sempre regionale come testimone che è la raggiola. Come attività pratiche rientranti all'interno del progetto del percorso per le competenze trasversali e dell'orientamento, l'esercitazione che abbiamo fatto con i nostri ragazzi siamo partiti dall'analisi del terreno e poi sempre come esercitazione con diverse classi siamo andati ad effettuare lo squadro dell'appezzamento di terreno e poi anche la messa in opera della struttura. Oggi andremo avanti con la messa a dimora delle piante. Il Consorzio DOP Cartoceto è il capofila di questo progetto che è nato ormai da diversi anni e oggi trova il suo compimento proprio nella piantumazione di queste piante che nascono dal genoma della raggiola che è tipica della zona del DOP Cartoceto, dell'areale del DOP Cartoceto. Quindi è un progetto molto importante perché serve a preservare quello che è il genoma delle piante tipiche e delle coltivazioni tipiche per mantenere quello che in Italia è il patrimonio maggiore che abbiamo, cioè la biodiversità. L'obiettivo di questo progetto è assolutamente introdurre innovazione e rispettare la tradizione. Quindi per rispettare la tradizione dobbiamo valorizzare la varietà locale che è la raggiola e al tempo stesso dobbiamo introdurre innovazione nella gestione per poter abbattere i costi e rendere possibile una gestione con poco uso di mano d'opera. Per cui abbiamo proposto oltre ai sistemi intensivi a vaso anche sistemi ad alta densità. Tutto questo appoggiandosi alle nuove tecnologie di supporto all'agricoltura di precisione, in particolare per l'olivo. La parola intensivo potrebbe fare pensare a un'agricoltura che è di sfruttamento. In realtà intensivo si intende solamente la densità con cui vengono piantate le piante e quindi la forma, vedete la differenza tra questo che ho dietro, che comunque è 6x6, sono tante piante rispetto magari a livetti tradizionali dove si andava anche 10x12x12. In questo caso sono molto più vicine e sono poste in filari. In realtà tutto questo non comporta poi uno sfruttamento del suolo, si può comunque fare un tipo di agricoltura sostenibile. E questo come si fa? Il suolo adesso, vedete, è stato lavorato per poter fare l'impianto e poi verrà inerbito, quindi comunque il suolo verrà preservato dall'inerbimento e la parte del sottofila, anche questa potrà essere protetta da una coltivazione di piante che vanno a fare una pacciamatura viva sul sottofila. Questo è un progetto che naturalmente mira anche ad ottenere qualità e quindi qualità con naturalmente cultivar autoctone. Quindi cerchiamo di far sì che ci sia un progetto di alta densità, ma a fianco all'alta densità anche con cultivar naturalmente autoctone come la raggiola, ma a fianco a questa naturalmente coltivazione ci sarà anche un progetto qualitativo. Abbiamo iniziato a lavorare penso un paio di mesi fa e adesso stiamo mettendo a dimora le piantine e penso che entro due o tre anni, forse massimo quattro, questo olivetto entrerà in funzione, è un olivetto in teoria intensivo e speriamo che vada tutto bene. Come vedete sono dei filari, un po' come fossero vigne, cosa che nel nostro territorio non vedi normalmente, è un'attività di ricerca in cui partecipano i nostri tecnici e i nostri studenti. Abbiamo chiaramente delle esperienze sparse per l'Europa, per il mondo, vogliamo vedere se si adatta a questo impianto anche ai nostri territori e alle nostre terre. E questa era l'ultima notizia, prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti di serata. Questa sera infatti alle ore 21.20 ci sarà lo speciale realizzato dalle nostre telecamere Talent Day per un incontro avvenuto settimana scorsa nella sede di Confcommercio tra gli studenti del Santa Marta e le imprese del territorio di Pesaro Urbino. E a seguire alle ore 21.40 sempre un altro speciale realizzato dalle nostre telecamere sulla Confartigianato e le comunità energetiche per un mondo che cambia. E poi vi ricordo gli appuntamenti anche per domani sera con Insieme a Canestro alle ore 21.20 in diretta, potrete seguire la puntata sia sul canale 80 ma anche sulla nostra pagina Facebook e potrete commentare e mandare le vostre domande agli ospiti che avremo in studio, ovvero Franco Arceci, il presidente del consorzio di Pesaro Basket e Michele Maggioli, ex giocatore della VL. E con queste ultime informazioni si conclude qui questa nuova edizione del Rossini News. Non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata.